Sono passati ormai tre anni dalla scomparsa dell'indimenticabile Dario Fo e sono davvero onorato di partecipare alla grande mostra a lui dedicata che inaugura il 6 febbraio allo spazio micro a Roma. Dario Fo non era soltanto un drammaturgo, un regista, uno scrittore, bensì era anche un pittore scenografo. Le sue opere dialogheranno in mostra con le interessanti opere degli artisti affermati ed emergenti di Spoleto Arte. Un encomio quindi ai curatori della mostra Vittorio Sgarbi e Salvo Nunes per la grande idea che ha il fine di affermare, elevare e tenere in alto orgogliosamente il nome di Fo e dell'arte italiana. Vi aspetto a Roma il 6 febbraio.